Edder Mech Pallister Si è arreso dopo ora l'uomo che si era barricato in casa dopo aver aggredito la moglie e i figli. Entrambi i bambini, di 3 e 7 anni, sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Palermo. La tragedia è avvenuta in un appartamento di via Puccini a Cianciana, un paese dell'entroterra in provincia di Agrigento. Il bimbo di 7 anni, raggiunto da alcuni fendenti all'addome e al torace, è stato trasportato in gravi condizioni con l'elisocorso all'ospedale. La sorellina più piccola è intubata e presenta una emorragia cerebrale. Quando lo abbiamo trasferito con l'elisocorso a Palermo, ha spiegato all'Agi una fonte del 118. Il bambino era vigile e cosciente ma aveva una perforazione al polmone. La bambina l'abbiamo lasciata in chirurgia plastica poiché presentava diverse ferite al volto e nell'area dell'orecchio. La moglie, che non è in pericolo di vita, è stata ricoverata nell'ospedale di Ribera. L'uomo, Daniele Alba, meccanico di 35 anni, è stato arrestato, si era barricato in casa dopo che la moglie era riuscita a sfuggire alla sua furia portando con sé i bambini. Dopo alcune ore si è alla fine arreso ai carabinieri, presenti sul posto con un proprio negoziatore del reparto operativo. All'origine del fatto vi sarebbe stata una lite in cui la donna aveva ribadito all'uomo la decisione di volersi separare da lui. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Sciacca Roberta Buzzolani, competente per territorio. Sempre oggi a Napoli un uomo, arrestato dalla polizia per tentato omicidio, ha sparato in strada alcuni colpi di pistola che si sono andati a infrangere in una vetrata. Seminando il panico tra bambini e mamma nel quartiere di Chiaiano a Napoli. Tutto questo mentre molti genitori stavano accompagnando i figli a scuola. L'uomo è salito nella sua abitazione e si è barricato in casa. Quando la polizia si è presentata davanti al suo appartamento aperto senza problemi. Era, si apprende, in condizioni di evidente alterazione. È stato portato in questura e successivamente arrestato. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale. A presto, io capisco. Si servei tutti i giochi di quieto. A presto, io ne sei... Eder Sabbatica! Edo me calcio! Grazie a tutti.